Non te l'avevo detto che era uno che cercava rogna? È vero, però è amico mio, come facevo? Ah, lui è tuo amico, io sono tuo amico. Ti stai facendo mettere nella merda. Quelli vogliono solo distruggerti, devi pensare con la tua testa. Ma io questo già lo faccio. Poi noi la odiamo anche quella gente lì, cioè io non la odio, ma gli altri... Quale gente di che parli? Che ti ha preso? Ho conosciuto una ragazza. E allora? E allora mi piace, mi piace molto, solo che... Non è bianca, è di Cornelia. È una ragazza di colore? Sì. E a te piace? Certo. Poi dovrei sentire quelli lì, già me li immagino. Che te ne frega. Tanto quelli finiscono ammazzati in galera, fregatene. Conta solo quello che è giusto per te, o quello che provate voi due, solo voi due. Quando siete a letto una notte voi due soli, tutto il resto non conta. Conta quello che ti dice il cuore. Vedi, nella vita un uomo può conoscere soltanto tre donne importanti. Escono una ogni dieci anni, come i grandi pugili. Dammi retta. Magari questa è quella che ti fa salpare e ve le spiegate. Magari è la tua prima donna importante. Sai che non hai tutti i torti. Grazie, Fran. Io forse un tentativo stavolta ce lo faccio. E' a posto sta ragazza. Non lo so. Sinceramente l'ho incontrata ieri sera, quindi spero di sì. Sai che facciamo? Ti presto la mia macchina. La tua? Sì. Ma tu non la presti mai a nessuno. E invece te la presto. Che voglio che tu faccia una buona impressione. Così ti prendi la macchina e le fai il test. Sì, quale test? Il Mario test. Mario ha il cervello bacato. Le fai il mio test. Il test dello sportello. Scusami, che test è questo? Allora, ascoltami bene. Sì. Tu prendi la macchina e ti fermi davanti a lei, ok? Ok. Prima di scendere metti la sicura alle portiere. Sì. Poi scendi con calma, ti avvicini verso di lei, la accompagni verso la macchina, tiri fuori le chiavi, le infili e le apri lo sportello. Poi le fai salire, le richiudi lo sportello, fai il giro della macchina da dietro, guardi verso di lei e se lei non si avvicina verso lo sportello per togliere la sicura per farti entrare, la molli. Così all'improvviso? Sì. Se lei non si allunga a togliere la sicura per farti entrare, significa che è una grande egoista. E quella è soltanto la punta dell'iceberg. Mollala e mollala la sveglia. Scusami, allora tutte quelle cose che mi hai detto prima? Sull'ascoltare il cuore, che sarebbe stata l'unica cosa che conta. Che sarebbe stata l'unica donna che mi avrebbe fatto andare a ve le spiegate? Valle. Tutto buttato. Valle. Il test dello sportello è quello che conta. Quindi che faccio? La mollo? Bravo. La mollo, si la mollo, aspetta! Valle. La molle, si la mollo, aspetta! Come. La mollo, a gunna The magra è quella che si chiama? Grazie a tutti